Il ministro dell'agricoltura Mario Catania e l'imprenditore del vino Gianni Zonin sono stati fra gli otto premiati nella quinta edizione del premio speciale Cantine Due Palme di Cellino San Marco. La consegna del prezioso grappolo in acciaio e rame scolpito dall'artigiano di Galatina Cesare Costantini è avvenuta nella sala Selvarossa delle cantine. Prima della cerimonia condotta da Mauro Pulpito e Nathalie Caldonazzo è stata inaugurata la nuova barricaia. A tagliare il nastro è stato il ministro dell'agricoltura Mario Catania accompagnato dall'assessore regionale Dario Stefano. La nuova struttura di 2.000 m2 ospita il magazzino e un nuovo punto vendita. Grazie ad un finanziamento europeo per un totale di 5 milioni di euro di investimento sono stati realizzati i nuovi capannoni e la barricaia per un totale di 4.000 m2 di struttura nei quali sarà sistemato un impianto di imbottigliamento dalla capacità di 11.000 pezzi l'ora. Le cantine Due Palme fondate nel 1989 a cavallo tra le province di Brindisi, Lecce e Taranto hanno overa più di 1.000 soci viticoltori che producono uve dei vitigni autoctoni Enegremaro, Malvasia Nera, Primitivo, Susumaniello, Aleatico e Fiano, oltre a Sangiovese, Montepulciano, Cabernet, Sauvignon e Merlot, Pinot Nero e Bianco, Chardonnay e Sauvignon.